Ancora una volta oggi il Presidente Napolitano ha fatto un intervento straordinario, vero, reale e soprattutto ha dato un cambio di passo secondo me molto importante rivolgendosi agli uomini e facendo capire agli uomini che è un vantaggio anche per loro i diritti e le libertà delle donne straordinarie. Intanto non chiamiamole quote rosa perché è un modo sbagliato di dire che la democrazia paritaria riguarda le donne e gli uomini, è la rappresentanza della società, quindi piuttosto preferisco parlare di norme antidiscriminatorie come se ne fa in Europa. Si arriverà a un punto di mediazione secondo lei? Non so perché anche se oggi piove e quindi non è proprio il clima, io sono ottimista, io penso che su questo un passo avanti lo faranno tutte le forze politiche. Alla Camera? Alla Camera, secondo me sì, non si può arretrare e quindi io credo che lo sforzo, certo non facile, sia di Forza Italia che dei partiti della maggioranza e del mio partito perché il mio partito è d'accordo ma il punto è trovare una mediazione dentro a chi ha fatto l'intesa più larga e ha presentato il disegno di legge ma io sono ottimista, secondo me ce la facciamo. Si è parlato dei problemi veri delle donne e anche le donne che sono state premiate sono persone che danno una testimonianza con la loro vita, non solo con le parole ma con i fatti. Questa sarà di buon auspicio per la questione delle quote rosa lunedì nella Camera? Sì, assolutamente sì, di buon auspicio c'è la festa di oggi ma c'è anche il nostro impegno senza arretramenti. Le grandi conquiste delle donne sono state fatte perché c'erano delle battaglie coraggiose e non arretreremo. Ma c'è stata un'apertura anche da parte dei renziani, delle renziane sulle quote rosa? Penso che questo si interessa di tutti, questa è una battaglia che non ha colore né titolo né proprietari, è una battaglia di tutte e di tutti. Diciamo che oggi tutto ciò aiuta, aiuta molto. Lei crede che in Senato si riuscirà a correggere? Spero che lo corregano alla Camera, se non lo correggeranno alla Camera al Senato ricominceremo a discutere questo punto certamente. Io penso che ci dovrebbe essere una coerenza tra una scelta assolutamente giusta ed interessante come aver fatto un governo paritetico e fare quindi una legge elettorale altrettanto democraticamente paritetica. C'è già la Camera o toccherà andare al Senato? Beh, io penso che prima si fa meglio, è per il segnale che si dà al Paese. La Napolitano ogni anno, sono ormai diversi anni che insomma sulle donne ha parole assolutamente condivisibili, evolute, oggi ha detto donne e civiltà. Ma la questione delle quote rosa come la vede? Sto andando a casa perché ho un bimbo di due anni e qui devo dare da mangiare. Le quote rosa vedremo domani, no, dopo domani in aula. Arrivederci.